Buongiorno cari amici, oggi parleremo del cibo e incominciamo dalla colazione e poi continueremo con pranzo e cena. Good morning friends, today we're going to talk about what we eat daily. We start with breakfast, lunch and supper. We start the morning with a good coffee, un buon caffè. Water is very important to the body. Doctors usually say drink at least 8 cups a day, so do your best, drink water during the day. Acqua, water. Cosa mangiamo al mattino? Incominciamo la giornata con un bel pezzo di pane, con burro e marmellata, con le uova, strapazzate, bollite, a occhio di bue, come fa piacere a noi. Allora, un bel pezzo di pane sempre, ed eccolo qua, pane, il pane, uovo, eggs. Now we go to lunch. What we eat at lunch time? Well, we usually start with a lilan di pasto. Cheese, salami, olives and whatever your heart desires. From there, we go to a good plate of pasta or rice or polenta. And then we go to the main meal, pesce or carne. Dal pranzo passiamo alla cena, che è un pasto molto leggero, fatto di un po' di di brodo o pizza o un'insalata, frutta e formaggi. Per noi italiani non finiamo mai di mangiare e se c'è una buona torta ci fa molto piacere. Oppure un buon gelato, si finisce bene con un buon gelato, a tutti i gusti e a tutte le ore. Buon appetito! Buon appetito!